La ricetta di mela rossa è linguine al limone. Abbiamo bisogno di olio d'oliva, prezzemolo fresco, peperoncino a scaglie, sale e il succo di limone. Iniziamo la preparazione del piatto, è molto facile, è molto veloce, quindi la prima cosa che farò è buttare la pasta. Ricordatevi di cuocerla al dente e andiamo ad iniziare. Prendiamo un limone, lo dividiamo in due e lo spremiamo. Il limone utilizzato in questa ricetta è importante perché oltre a fornire una quantità di acido citrico e di vitamina C, rende molto più disponibile il ferro presente nella carne, perché la vitamina C ha questa proprietà, quella di trasformare il ferro presente nella carne in una forma molto più assorbibile dal nostro intestino. Di conseguenza è un abbinamento molto utile soprattutto per le persone che hanno bisogno di assorbire ferro. E filtriamo il succo del limone in una ciotola. Aggiungiamo del peperoncino e dell'olio d'olio d'oliva e ricordatevi di seguire la vostra dieta personalizzata per le quantità di olio, è molto importante. Emulsioniamo il tutto. Andiamo a scolare la pasta direttamente nella ciotola. Mischiamo il tutto. Adagiate la vostra pasta al centro del piatto e ricordatevi che sul sito troverete altre ricette con limone come il riso al limone. E guarnite con il prezzemolo spezzettato con le dita. Ed ecco qui le vostre linguine al limone pronte per mela rossa.